Quarto kata, Pinayondan. Sposta ai ghiashi, sinistro. Richiamo alla gamba destra, giù giù ke. Passa avanti ai minekoashi, doppia parata. Vicina, sposto un pochino, se non sto fuori il schermo. Calcio e parata insieme, poi gomito. Uno, due. Richiamo. Uno, due. Ara yukiya, ruota bene i piedi. Quattro, uno. Calcio, para e uragen insunutashi. Ruota, shomene koashi, parata. Calcio, pugno, pugno. Sposta la gamba davanti e para. Uno, shomene koashi. Calcio, pugno, pugno. Doppia parata sul nodo della cintura. Tre volte, uno. Due. E passo avanti, tre. Poi incrocia il braccio destro sul sinistro e apre. Incrocia il braccio destro e apre. Shomene koashi. Colpisce col ginocchio. Carica il braccio destro. Il sinistro passa davanti e pariamo kake uke. La mano che afferra. Guarda a destra. Tallone, punta, scivolando. Destro passo davanti e pari. E ieri.